Il primo set è stato abbastanza facile per noi, infatti abbiamo sbagliato a pensare di vincere, infatti il secondo e il terzo set ci hanno un po' scosso e abbiamo avuto un po' una carenza in difesa, però grazie anche alle nostre fuori quota siamo riuscite a vincere, soprattutto grazie alla battuta, anche per fortuna ci siamo un po' riprese, l'ultimo set soprattutto e anche il quarto. Allora, il nostro gruppo è un gruppo nuovo, infatti abbiamo tre squadre, l'Olimpia Boschioma e l'Olimpio Santa Cristina del Quinto e ci siamo conosciute quest'anno, infatti in Under 18 non siamo riuscite a raggiungere il nostro obiettivo, però in Coppa abbiamo vinto e era il nostro obiettivo per questa prima parte dell'anno. Nella seconda parte dell'anno speriamo di vincere la terza divisione e appunto arrivare in seconda, perché ce lo meritiamo. Grazie. 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 Grazie.